Sono molto soddisfatto perché abbiamo approvato la legge 15 del 2019 che permette di dare ulteriore impulso e rinforza l'ufficio di ricostruzione di Teno. Con questo provvedimento la Regione assume l'onere delle spese del personale a comando e le spese di funzionamento. Così facendo possiamo mettere altre 15 persone che sicuramente accelereranno le procedure per far rientrare i cittadini terramani nelle loro abitazioni. Sono molto soddisfatto, adesso attendiamo lo sbocco da cantieri per dare ulteriore impulso all'ufficio di ricostruzione che fino ad ora è rimasto piuttosto fermo. Quindi un segnale positivo e questo veramente mi dà gioia per tutte le persone che sono ancora fuori casa.